Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per mercoledì 3 agosto. Forte ondata di caldo in atto per la presenza dell'anticiclone nordafricano, caldo più intenso però sulle regioni centrosetenzionali, mentre quelle meridionali il caldo più attenuato per l'arrivo di venti più freschi del Balcane. Allora che tempo farà? Beh, bel tempo con l'anticiclone nordafricano a parte isolati temporali pomerigliani su Alpi, Piemontesi, Rilievi, Abruzzesi, Molisane e Carabri. Massimo intorno a 30-32 gradi sulle regioni del Medio Adriatico e lungo le coste, 33-35 gradi al nord, regioni tirreniche e regioni meridionali Sardegna, punte di 37 gradi in Toscana.